Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La domanda è, chi è Gianluca Balestra? Gianluca Balestra è un operatore culturale e teatrale di Grottamare, di origine grottamarese e ancora residente a Grottamare, fiscalmente residente a Grottamare, che ha incontrato il teatro per caso. L'ho incontrato per caso perché nella mia vita, se avessi proseguito il mio percorso di studi, avrei dovuto svolgere il lavoro di architetto. Il lavoro teatrale, per chi viene da una provincia, quella marchigiana, una provincia sana, benestante, il mestiere del teatrante non è propriamente un mestiere riconoscibile, non lo conoscevo neanch'io. Era un appassionato di cinema, quindi era un appassionato di spettacolo riprodotto, ma guardavo il teatro, che è una disciplina nello spettacolo dal vivo, come qualcosa di distante da me, dove appunto non sviluppavo particolari intenzioni di approfondimento e particolari emozioni o passioni. Poi è arrivato il tempo in cui, dato che sono un classe 69, all'epoca, negli anni 90 ancora si doveva svolgere servizio militare, io optai per quello civile. In maniera rocambolesca mi trovai, fortunosa, mi trovai ad essere contattato attraverso il Ministero della Difesa dal comune di Grottamare, cioè dal mio comune. La classica cosa, per chi è della mia generazione, dice, mamma mia, che colpo di fortuna, o forse non era stata proprio tutta fortuna, nel mio caso posso assicurare è stata fortuna, mi chiama al mio comune e vado praticamente a impiegarmi, vado a fare il mio servizio militare, ma civile, all'interno dell'edificio comunale. Grottamare è sede di una manifestazione storica che si chiama Festival Cabaret Amore Mio, che credo vada avanti da 35 anni, una cosa del genere. Io ho preso il servizio a giugno e insieme intorno al Festival Cabaret Amore Mio c'erano tante altre iniziative collaterali di spettacolo, appunto, di teatro, di cabaret, di musica, che erano praticamente intorno a questa grande manifestazione. E quindi io mi trovai ad essere destinato a tutta la manovalanza di quel settore, un settore che non conoscevo, che ribadisco non sapevo cosa fosse e per chi sta ascoltando questa intervista, la macchina organizzativa, la macchina di costruzione di un evento spettacolare è veramente complessa. E non ci se ne rende conto se non ci si imbatte obbligatoriamente, come nel mio caso, e quindi può conoscere la complessità del risultato, che è un risultato che a volte ti paga di tutte le fatiche intraprese, ma nel mio caso, buttato veramente nell'arena da neofita, ho svolto il mio servizio militare all'interno di quest'ambito, per poi essere, dopo qualche mese dall'inizio del mio lavoro, probabilmente avevo una vocazione naturale per farlo, una predisposizione naturale, ma non lo sapevo, sono stato chiamato a collaborare con l'associazione Marchigiana Attività Teatrali, che è l'AMAT, che è l'organismo regionale delle Marche che programma la quasi totalità dei teatri regionali. E quindi ho iniziato a fare questo mestiere, ovvero questo meccanismo mi ha preso talmente tanto che ne ho fatto un mestiere. Ne ho fatto un mestiere contro, diciamo, con delle resistenze nate, espresse in primis dalla mia stessa famiglia, perché mi hanno visto come un possibile perdigiorno, cioè mi hanno visto come una persona che probabilmente stava buttando l'occasione di diventare un libero professionista, quindi il giovane ragazzo laureato che avrebbe dovuto proseguire della sua vita in maniera assolutamente più riconoscibile. E invece io dissi, no, questo lavoro mi piace proprio, e ho iniziato così. Ti sto parlando del 96, quindi stiamo parlando di 26 anni fa, e ora a distanza di 26 anni dirigo, sono a capo di un centro di produzione teatrale che gestisce un centro di produzione teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura, quindi è un centro di produzione statale, che ha sede a Milano, città dove adesso vivo per la maggior parte del mio tempo, con delle sedi distaccate anche a Firenze e Forlì. Forlì, teatro testori, che è il luogo da cui vi sto parlando oggi. Non voglio annoiarvi con la mia biografia, però questo mestiere è nato per caso. Mi sono professionalizzato facendo delle esperienze, come organizzatore, programmatore, produttore, e sono arrivato, diciamo, appunto poi in un'età che avanza, aumentano le competenze, aumentano le responsabilità e ora mi sono preso da sei anni, sì da sei anni, sono a capo di questo organismo complesso con tre sedi. Ho mantenuto, perché tu oggi sei nel teatro alla Leona di Montegiorgio? Perché tra le mie, diciamo, molte attività, il teatro alla Leona, cioè la direzione artistica del teatro alla Leona di Montegiorgio ha proprio occupato un posto predominante nella mia parte affettiva, la parte sentimentale, e il legame con la mia terra. E quindi il teatro alla Leona di Montegiorgio dal 2008 è da me diretto, in partenariato, con forte collaborazione, in forte coniugazione, con tutte le persone dell'amministrazione comunale che hanno condiviso il progetto. Parlo dell'amministrazione comunale, ma anche delle persone che abitano abitualmente il teatro, mi riferisco alla compagnia di Montegiorgio Cacionà che gestisce poi tutti i servizi del teatro. Cioè siamo veramente un gruppo di lavoro che ha portato la Leona di Montegiorgio a, diciamo, diventare uno dei punti di riferimento della programmazione culturale del territorio. Sì, allora, a questo punto passiamo un pochettino al fatto che la stagione teatrale a Montegiorgio prosegue con tante difficoltà perché il periodo non è facile, però a questo punto già dal 23 febbraio c'è l'Eugullotta con sicuramente uno spettacolo interessantissimo, ma poi da lì ci saranno tanti altri spettacoli, ma non solo spettacoli perché ci sarà la prosa, il teatro per ragazzi, ci sarà l'operistica e tante altre iniziative che avete già pronti. È stato difficile riuscire a mettere tutto l'insieme, però... Ovviamente noi nel febbraio 2020, anzi nei primi giorni di marzo del 2020, abbiamo dovuto interrompere l'attività perché, come tutte le attività aperte al pubblico, e abbiamo dovuto anche sospendere per la prima volta la stagione 2021 perché è stagione che avevamo programmato, ma poi abbiamo dovuto per forza adeguarci alle nuove norme del lockdown, del secondo lockdown, quello da ottobre 2020 in poi, però c'è uno in particolare che vorrei rilevare e far presente. Noi, quando parlo di noi, parlo di me, parlo dell'assessore alla cultura Michela Vita e del sindaco Michele Ortenzi, neopresidente della provincia di Fermo, ma io parlo con Michela e Michele. Quando ci siamo trovati a progettare una nuova pagina, quindi a progettare la stagione in corso, ci siamo detti, siamo cauti perché probabilmente con una forte interruzione con quello che è successo, probabilmente ci sarà una disaffezione, forse non avremo gli stessi abbonati che avevamo un tempo. Volevo sottolineare il fatto che il teatro alla Leona ha un tasso di occupazione altissimo, tra i più alti in Italia, cioè ogni volta che si apre il sipario, il teatro risponde in una maniera assolutamente ingente, quasi sempre da sold out. Questo a testimonianza del fatto che c'è un interesse notevole e credo che sia anche il motivo per cui esiste quel teatro in un centro di 7.000 abitanti, un teatro così monumentale, così bello e anche così grande rispetto alla popolazione. Questo testimonia il fatto che un teatro storico dei primi del Novecento sia arrivato così a noi ora, quindi a 120 anni di distanza, con anche una tradizione musicale, come tu giustamente hai ricordato, operistica e di eventi collaterali. Perché? Perché ci sono sempre interessi a tutte le forme di spettacolo al vivo. In questo senso la possibilità di programmare una nuova stagione ci poneva anche di fronte al dubbio che il pubblico potesse ritornare con la stessa passione, con la stessa voglia, con la stessa anche, se vogliamo, allegria e non con la paura appunto della persona accanto, c'è la paura della vicinanza di uno spettatore accanto. Bene, questa cosa non è successa perché noi abbiamo mantenuto lo stesso numero di abbonati e continuiamo il 23, quindi mercoledì prossima settimana a mettere in scena il terzo appuntamento della stagione di prosa che è Bartleby, lo scrivano di Melville, della compagnia Arcazzurra con Leo Gullotta, protagonista, e lo faremo con un quasi sold out. Sono rimasti adesso a distanza di una settimana che non siano rimasti solo i posti di loggione. Proseguiremo poi a marzo con il debutto, con la prima regionale di Festen, uno spettacolo tratto dal famoso film di Vintenberg che è stato il primo film del dogma di Lars von Trier. Vintenberg che lo scorso anno vinse l'Oscar come miglior film straniero per un altro giro. Noi siamo i primi ad ospitare la versione teatrale di questo celebre film e lo facciamo a Monte Giorgio. Tra l'altro la compagnia verrà proprio a riallestire e provare lo spettacolo a Monte Giorgio perché la Leona è anche un teatro di residenza, ovvero accogliamo anche le prove di gruppi, di compagnie professionali che hanno bisogno di uno spazio per ritrovare quella fluidità artistica di rappresentazione. Chiudiamo la stagione di prosa il 30 marzo con la camera azzurra tratto dal racconto di Simenon, anche questo in esclusiva regionale, la camera azzurra per la regia di Serena Sinigaglia con Irene Ferri, Fabio Troiano, Mattia Fabris, insomma uno spettacolo anch'esso di primo ordine e perché sottolineiamo sempre l'esclusiva regionale, la prima regionale, il debutto nazionale? Perché? Perché questo attiene un po' al mio ruolo in quanto la mia quotidianità lavorativa mi mette in connessione, in collegamento, in rapporto con molte altre esperienze produttive, molti altri colleghi, compagnie, artisti della scena nazionale. E io spesso li interrogo o li coinvolgo, li impegno in un progetto ad hoc per Montegiorgio e il successo del teatro alla Leona va proprio in questa direzione, cioè nell'unicità, perché quello che accade alla Leona accade per quella stagione sempre lì. Cioè è capitato, ormai è diventato quasi un gioco e lo, diciamo, derubrichiamo come tale con il teatro dell'Aquila di Fermo, perché spesso è capitato che spettacoli che ha replicato, che ha programmato il teatro dell'Aquila di Fermo, siano stati ospitati dalla Leona magari o la stagione precedente o addirittura qualche stagione prima. Siamo sempre stati antesignani in questo, però ribadisco, non è un primato, cioè non è una gara. Io mi avventuro a trovare un filo conduttore, quest'anno il filo conduttore è proprio quello della vicinanza, da declinare in tante forme, cioè quello di abbattere la paura della vicinanza e quindi della condivisione e tutte le opere che vengono, diciamo, presentate anche nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù, quindi nel teatro ragazzi o nell'ambito operistico, devono avere la possibilità di poter parlare, cioè si muovono su una base comune e devo dire che il risultato di quest'anno è stato al di sopra di ogni nostra aspettativa e stiamo proseguendo anche a dare iniezioni di fiducia al nostro pubblico, perché il teatro, anche io vi sto parlando da un teatro privato, questo teatro, il teatro Testori, sono in un ufficio, non si capisce, ma appunto se qualcuno vuole visitare il sito è www.teatrotestori.it, il teatro Testori è una delle sedi di Elsinore, quindi dell'organismo che rappresento, ed è un teatro privato perché è di proprietà, ma i teatri non sono mai case private, i teatri sono anche da privati, sono luoghi pubblici, sono momenti di condivisione, sono delle piazze, delle piazze coperte e in piazza ci si scambia, ci si scambia informazioni, ci si incontra, ci si contagia, ci si contamina vicendevolmente. E con questo pensiero, con questa volontà, con questa ambizione, ci siamo mossi anche a programmare una nuova stagione in un periodo così difficile, così interrogativo, con una grande incertezza. Però abbiamo vinto la scommessa e devo dire che questa cosa mi ha riempito di gioia, perché vuol dire che quel posto, appunto nell'angolo degli affetti, dove si è collocato il teatro alla Leona di Monte Giorgio, nel progetto di Monte Giorgio, ha ragion d'essere, perché questa è una grande soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Perfetto, l'unica cosa, l'emozione che hai provato, la prima volta che è iniziato questa attività e hai finito tutto il palinsesso, cioè tutta la programmazione, alla fine di tutta questa programmazione, quando hai ottenuto, hai capito che il risultato era stato raggiunto, che sensazione hai provato, perché in questo punto noi puntiamo un po' sull'emozione, il fatto. Di aver fatto bene il mio lavoro, anzi, di averlo fatto. E in questo caso, anche di rispondere a quegli interrogativi, posso essere, mi permetto di essere in questo un po' anche malinconico, ma nel senso positivo. Mio padre ha 80 anni, è un anziano signore, che ancora adesso, quando parla di me, magari con dei suoi coetanei su una panchina del giardino comunale del mio paese, dice, mio padre e mio figlio fa un lavoro, ma non ho mai capito che cosa faccia. Però è contento. Allora, c'è sempre dietro questa cosa e questo aspetto non è solamente legato alla mia persona, lo sto rivolgendo un po' agli spettatori, al pubblico, in questo caso all'audience, piccolo o grande che sia. Questo è un mestiere, è un mestiere vero, ed è un mestiere di mediazione e divulgazione culturale. Non è qualcosa di superfluo. Il bello, il bello, ad esempio, tu sei in questo momento virtualmente in un teatro che ha, tra i pochissimi in Italia, che ha come colonnine di separazione di un palco delle cariatidi. Poteva essere tranquillamente utilizzato un pilastro nudo semplice, eppure qualcuno ha deciso di investire un artista, un gessista, uno scultore per creare delle cariatidi come ulteriore elemento di bellezza. E questa bellezza ci viene tramandata. E la bellezza viene tramandata o a livello fisico, materico, oppure nei ricordi. Perché andare a teatro non è qualcosa o qualcosa per cui dici, ah, stasera mi andrebbe di trascorrere delle ore di divertimento. Non è solamente quello. O stasera, generalmente non si dice mai stasera voglio uscire perché voglio approfondire una tematica drammatica. No. Ci sono poi spettatori che sono animati da maggiore passione e altri della minor passione. Ma quando tu mi dici che cosa accade quando tu hai, appunto, hai consolidato, hai capito che è di aver conseguito il tuo risultato, di aver fatto qualcosa per il pubblico, che è il mio lavoro. Cioè di aver aiutato il processo di conoscenza e quindi di crescita dello spettatore. Perché io casualmente ho avuto questa possibilità. E vi dico che la conoscenza, questa continua poi conoscenza, perché chi fa il mio mestiere non può dire ho finito, insomma, ne so tante, basta così. Non puoi perché è un continuo, un continuo stimolo, un continuo, tra l'altro, condividere con artisti, con creativi delle, diciamo, nuove pagine di qualsiasi vicenda, di qualsiasi storia, della vita, dell'umanità, storie antiche rielaborate, storie contemporanee, sono tutte fotografie. Quindi c'è un continuo stimolo. E questo mi ha aiutato molto nel processo anche di autoconsapevolezza. E quindi per rispondere alla tua domanda dico, bene, ho fatto il mio mestiere, che è questo. Ed è un mestiere per cui vengo pagato. Non è un dopolavoro. Poi esistono naturalmente, prima ho parlato di Montegiorgio Cacionà, formazione che io adoro, ma quando posso vengo anche a vedere Montegiorgio Cacionà perché è un momento anche quello di condivisione di una comunità. Quindi Montegiorgio si rispecchia nella compagnia di attori non professionali che hanno scelto appunto di spendere il loro tempo libero per fare qualcosa che dà soddisfazione, qualcosa che li fa crescere. Perché poi anche l'esibirsi davanti a un pubblico un momento di crescita personale non è indifferente. Ebbene, quello che io faccio e quello che fanno tanti altri miei colleghi è un mestiere. E quindi dico sempre, rispondendo, ho fatto l'esempio di mio padre, glielo dirò fino a che finché avremo la possibilità di avere una conversazione. Gli avrò dato 26 anni fa un dolore non facendo quello che lui si aspettava da me. Ma forse poi in un cuor suo magari non me l'ha mai detto, ma in un cuor suo forse mi ha visto più contento così e quindi una soddisfazione ce l'ha. Anche se è qualcosa che non afferra o non vuole afferrare. Ho fatto l'esempio di mio padre perché ci saranno tantissimi esempi simili. Questo è un mestiere. E mi rivolgo anche a quelle persone che magari hanno degli amici o dei figli che vogliono intraprendere la carriera d'attore. Mi fai vedere in mente, se me lo permetti, un aneddoto proprio di Montegiorgio. Perché a Montegiorgio è nato un ragazzo molto talentuoso che si è diplomato in regia all'Accademia d'Arte Silvio D'Amico. Non voglio fare il nome, tanto chi vuole lo indagherà. E nei primi anni della mia attività a Montegiorgio mi fermai un giorno in una pompa di benzina di Montegiorgio, a Piane di Montegiorgio. Mi fermai a fare benzina. Mi servì una signora che a un certo punto, in maniera molto educata, molto timorosa quasi, dico, mi scusi, ma lei è il direttore del teatro? Dico, sì, le posso fare una domanda? Dico, prego, mio figlio vorrebbe fare questo mestiere, vorrebbe lavorare nel teatro, adesso si è appena diplomato, vorrebbe iniziare questo percorso. Ricordo una cosa del genere. Dice, io ho tanta paura, perché ho paura che si perda, ho paura che non sia la scelta giusta. Io ho detto, signora, se lo vuole con tutte le sue forze, è bene che lei non si opponga. È giovane. Dico, questo è un mestiere. Io le posso dire un mestiere, non conosco il suo figlio, non so che talento abbia. Ebbene, questo ragazzo ha iniziato questo percorso. Nel maggio scorso io ero a Perugia, avevano appena riaperto i teatri. Ero a Perugia, al Teatro Murlacchi, quindi il teatro maggiore della regione Umbria, per la prima di Guerra e Pace di Dostoievski, è una produzione importante per la regia di Andrea Baracco. E questo, Montegiorgese, d'origine, era l'aiuto regista di Andrea Baracco, perché è ancora giovane questo ragazzo. E io, cioè, vidi questo nome in cartellone e dissi. Aveva avuto altre occasioni, qualche volta è venuto a teatro, tornando da Roma, perché poi lui si è stabilito a Roma, ha studiato alla Silvia D'Amico, che è la maggior, che è la più importante accademia di formazione, sia nell'arte recitativa che nell'arte registica d'Italia. Lui quindi ha fatto questo percorso e ha iniziato questo mestiere. E quando ho visto il suo nome in cartellone, mi sono ricordato di quel freddo pomeriggio, anzi, di quel fredda serata d'inverno, quando la madre, servendomi alla stazione di benzina, mi fece quella domanda. Se io, o se lei, avesse, diciamo, se avesse posto delle barriere, probabilmente avremmo un talentuoso regista in meno. Dico solamente questo. Io vi auguro di tornare, io saluto tutti e vi auguro di tornare tutti, tutti, ad avere fiducia nel prossimo, ma non fiducia nel prossimo per paura che qualcosa di spiacevole possa accadervi. Il teatro, ma come ha molte altre forme di condivisione, non debbono spaventare più. Io spero che con questo mio saluto possa dare un aiuto a cominciare a pensare di non di tornare a normalità, di iniziare una nuova pagina della nostra quotidianità. E spero che questo ciò che abbiamo passato sia solo un brutto ricordo. Quindi viva il teatro, ma viva ogni occasione per approcciare il bello e l'arte. E tutti i registri a Montegiorgio a vedere l'ospedale. Se troverete posto. Sto scherzando, naturalmente. Noi ringraziamo a te, ringraziamo l'assessore e al sindaco perché ci hanno dato la possibilità, hanno dato la possibilità finalmente di tornare al teatro. È la cosa più bella che si possa fare. Il ringraziamento maggiore va a loro perché si sono presi anche la responsabilità anche di un atto politico di riaprire il teatro in barba invece ai timori che magari un amministratore può avere perché magari passibile appunto di critiche, dicendo è imprudente riaprire il teatro, rimettere insieme le persone. Io sono uno strumento in loro mano, sono uno strumento tecnico però il merito va a loro di aver creduto di nuovo a questo progetto e di aver trovato soprattutto i fondi per realizzarlo. Cosa non scontata. Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro a e a a Grazie a tutti.